Arezzo avrà un ruolo importante nella Toscana, la giunta è prematuro perché ne parliamo fra 20 giorni, dobbiamo vivere un po' tutti gli equilibri che derivano da tutta una serie di fattori. Insomma, francamente siamo molto insoddisfatti. Francesco Ruscelli, segretario provinciale del Partito Democratico, non nasconde l'amarezza e la delusione. Un'ampia fetta del territorio regionale non è rappresentata, sintomo che qualcosa non ha funzionato, non ha funzionato sicuramente nella composizione di questa squadra di governo, ma anche nel coordinamento che il partito a livello regionale avrebbe dovuto fare per arrivare a una quadratura che fosse più rappresentativa. Ad aggravare questa situazione il fatto che vi sono dei territori che invece sono sovra rappresentati. La nuova giunta Gianni ha infatti lasciato Arezzo fuori dalla porta. Probabilmente hanno prevalso delle logiche che non hanno tenuto in considerazione l'equilibrio tra i territori e anche la valenza politica determinata dal risultato elettorale e hanno avuto la meglio logiche di sistemazione di equilibri interni alle aree politiche. Non sono così bastate le 7200 preferenze circa dell'ex vicepresidente del Consiglio, Lucia De Robertis e neppure le 14.500 di Vincenzo Ceccarelli, già assessore all'infrastrutture con Enrico Rossi e ora capogruppo del PD, per permettere ai due aretini di avere un ruolo di rilievo nel nuovo governo della regione. Sono sicuro che Vincenzo continuerà ad essere un punto di riferimento con un profilo più politico, forse meno istituzionale rispetto al passato, ma per tutto il territorio provinciale e anche per la nostra comunità. Lucia De Robertis continuerà a svolgere il ruolo di consigliera regionale e poi vedremo se nella quadratura delle presidenze avrà un riconoscimento. Rimane il fatto che potevano essere gestite molto diversamente. Ciò nonostante, ora noi ci vogliamo concentrare anche su quelli che sono i temi, per cui non potrà comunque mancare un'attenzione anche maggiore del Presidente e della Giunta nei confronti del nostro territorio e delle istanze che abbiamo portato avanti in campagna elettorale.